segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te no no guardi panis io le voglio bene ma non riesco a farlo le sezioni unite le sezioni unite della cassazione a me non me ne frega niente in italia questi qua i soldi non li dovrebbero prendere per me chi è condannato per mafia i soldi non li dovrebbe prendere perché sennò giochiamo coi cavigli poi cavigli eccoci ha versato ma bene si ha versato i contributi a diritto di avere un assegno va bene poi non lamentiamoci più se la gente non va a votare non lamentiamoci più se la gente non va a votare allora panis le voglio bene come salmine non si dice così ecco è scorretto dire questo è profondamente scorretto dire questo no non è corretto di sopravvivenza non è scorre euro è il minimo che può consentire una persona che non ha altre fonti di reddito va bene la pensiamo diversamente euro non adesso scusate stacca migliaudio per favore stacca migliaudio giovanni scusate mi